Siamo entrati da quanto tempo in un sistema di guerra? Ci siamo entrati da quando ci viene indicata la priorità di combattere un nemico. Perché se c'è un nemico da distruggere, allora succede questo. Succede che i politici, i giornalisti, gli scienziati, siano essi militari o medici, hanno la stessa identica posizione e quando questo avviene la democrazia si amava.